Per la gente pensare che si chiama José Harry Mourinho Potter, non José Mourinho Felix. Il rafferio deve spiegare, ma non parlano. Cosa faceva il rafferio? Si, ma voglio quello che ti senti. Dicete. Dicete, voglio che lo senti da Roma. Dicete sempre io perché è il mio principio. Tu puoi perdere partite, non puoi perdere mai la tua dignità. È un f***ing disgrace, man. È un f***ing disgrace, man. È un f***ing disgrace, man. Severe bench, è assolutamente fuming. Non troppo persone in me... around in Tirana, mi hanno detto... Tu sei in inglese? Si. Pensavo che sei in Albania. Mi ha portato la migliore portuguesa di vino. Mi ha portato il mordere. È un f***ing ottimo domenica, Alla giù la pressa del questo giorno, era una copia di teore, perché è stato molto felice. Vi accosti il suo piatto di piatto per il mio piatto? Sì, le piatto della piatto per il mio piatto. Ma, invece, non ho invece, l'occhio per fare la piatto. Questo è un piatto fordata! Sì, nel canale orde! Ode, ode! Ode, ode, ode! Come, ciudad! Come! Grazie a tutti